diretta dal maestro Davide Di Gregorio, la Big Band e ascolteremo per iniziare dei brani che saranno cantati da una splendida voce Monica Grassi, una ragazza che ha già partecipato a numerosi concorsi e avremo l'occasione di ascoltarla ed apprezzarla dopodiché nel corso della serata come tutti già vi aspettate ci sarà Federico Angelici, il vincitore di Amici che ci diletterà con delle canzoni e che sarà per tutti i giovani penso un momento molto importante e concluderemo la serata con l'esibizione di una grande artista Antonella Ruggero che penso che lascerà un buonissimo ricordo soprattutto a Sciara, per Sciara e a tutti quanti che l'ascolteranno vi ringrazio, detto questo vi auguro un buon ascolto e una buona continuazione di serata Buonasera a Sciara, la battaglia di che fare un Big Band Buonasera a Sciara, la battaglia di Amici 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 Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie 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 a tutti